Miei cari amici buonasera e allora sono tornata da poco dal lavoro e prima di cena voglio stare un attimo con voi con questo video ovviamente a variante unica siete sul canale il velero senza nome io sono Perla do il benvenuto a tutti i nuovi amici e un bentrovati a tutti quelli che già mi seguono insomma regolarmente e voglio fare questa domanda che poi è una domanda che interessa anche a me per cui mi sembra carino condividerla con voi e farla un po' per tutti ed è questa tutti o tutte insomma anche per i maschietti che sono all'ascolto perché so che ci sono anche un buon numero di maschietti che soffrono anche loro per amore lo so e allora questa è la domanda farà il primo passo verso di me? Quindi qui abbiamo la situazione in cui c'è sicuramente è stato un litigio o un qualcosa che è momentaneamente fermo può essere stata anche una rottura però vogliamo sapere se questa persona può essere passato poco tempo può essere passato tanto tempo però vogliamo sapere se questa persona farà lei un primo passo verso di noi perché noi o la maggior parte di noi non vuol far nulla perché sente che la colpa non è non è sentiamo che la colpa non è nostra e ci aspettiamo che l'altra persona faccia un qualcosa nei nostri confronti perché proprio sentiamo di non essere noi a dover fare questo primo passo perché magari nella maggior parte dei casi siamo noi che abbiamo avuto diciamo il peggio in questa situazione magari questa persona ci ha ferito magari questa persona ci ha offeso ha già detto delle parole poco carine e noi ovviamente ci siamo fatte da parte proprio perché siamo sentite tradite ferite e offese e questa persona non solo non ci ha fatto le sue scuse ma è scomparsa e allora vogliamo sapere capire se farà il primo passo questa è la domanda allora vediamo un attimino se farà questo primo passo questa persona perché questa persona non soltanto ci ha ferito ci ha offeso magari ci ha ingannato ci ha fatto soffrire ma fa l'offesa e aspetta che siamo noi a fare il primo passo io non lo credo giusto per cui io personalmente non farò nulla non so voi ma io non muoverò una solo delle mie dita non muoverò un dito che è un dito perché io mi sento nel giusto anche perché secondo me un uomo un vero uomo deve anche ammettere quando ha sbagliato se no non è un vero uomo io la penso così ho una vera donna se siete uomini e se siete dall'altra parte benissimo vediamo quindi se questa persona farà il primo passo nei nostri confronti io adesso prendo dieci carte così vediamo che situazione abbiamo dieci carte dieci carte smazzo in fondo mazzo abbiamo l'imperatore l'ucus in fabola l'imperatore è il classico uomo che non deve chiedere mai l'uomo che appare sempre sicuro di sé soprattutto in pubblico che dice si fa come dico io oppure niente una persona egoista anche un po' narcisista insomma una persona un po' col suo caratterino tra virgolette per cui vediamo insomma cosa viene fuori allora vediamo un po' prendo dieci carte e poi vediamo se non le vedete ve le faccio vedere poi man mano quindi farà il primo passo questa persona vediamo un pochettino partiamo con una regina di bastoni un sette di coppe un papa tre di denari cinque di coppe ruota della fortuna tre di bastoni otto di spade matto e otto di coppe che situazione abbiamo qua allora qui abbiamo ovviamente la rottura che poi era la domanda ma le carte ovviamente in base alla domanda vengono fuori no? ovviamente allora qui abbiamo appunto questa rottura può anche essere stata la fine di una relazione o una rottura qui questa persona è molto indecisa perché abbiamo la carta del sette di coppe che è proprio la carta della scelta del fatto che io devo scegliere ma non scelgo so che devo scegliere ma alla fine non scelgo mai mi tiro sempre indietro quindi questa non scelta la non scelta di questa persona questa persona che potrebbe anche avere già una relazione ufficiale con un'altra donna per alcuni di voi perché mi esce il papa di solito quando c'è il papa fa pensare a una situazione diciamo formale un matrimonio un matrimonio una convivenza un qualcosa di formale che potrebbe essere la regina di bastoni siete voi quindi voi che state guardando il video poteste essere aria del leone o sagittario o avere l'ascendente in uno di questi segni questo tre di denari mi fa pensare che durante la vostra relazione voi avete lavorato molto per la buona riuscita della relazione lo avete perdonato molte volte questa persona avete cercato di stargli vicino di assecondarlo perché lui in quanto imperatore è una persona un po' così che bisogna andarci con la sua quindi molte volte vi ha fatto arrabbiare però voi insomma avete contato fino a dieci avete fatto finta di niente sicuramente è una persona che ha anche dei lati molto positivi però d'altro canto ha anche questo carattere un po' così un po' particolare bisogna andarci insieme oppure voi avreste potuto conoscere questa persona in un luogo di lavoro o ci state lavorando assieme oppure l'avete conosciuta o l'avete frequentata in un luogo di lavoro a volte magari questa persona è molto desolata vediamo qui con questo 5 di coppe vedete che è desolato guarda le coppe vuote non vede quelle piene dentro a lui dice oramai la relazione è finita questa donna io l'ho persa si dà un po' la colpa di questo perché lui sa di avere questo carattere infernale per cui lui un po' si dà la colpa di quello che è accaduto si sente in colpa per quello che è accaduto perché lui lo sa che ha questo carattere infernale no? anche un po' impietoso a volte che non pensa a ciò che dice e dice le cose all'improvviso e magari non si rende conto di ferire una persona poi magari ci riflette dice ma che cosa ho detto cosa le ho detto l'ho ferita no? è anche un tipo di persona così questa persona è in attesa però con questo te di bastoni e come vi ho detto è desolata perché vedete in questo 8 di spade lui è desolato è triste sta soffrendo per voi lui vorrebbe che fosse il destino a fare in modo di mettervi di nuovo sulla stessa strada perché lui questo primo passo non lo vuole fare avendo questo carattere così figurati è molto orgoglioso e in un certo qual modo vorrebbe allontanarsi con questo 8 di coppe dalla situazione vorrebbe allontanarsi ma non ci riesce perché continua a pensarvi e qui abbiamo questo matto allora il matto ha varie interpretazioni il matto può indicare una persona che ancora non sa cosa fare prima del principio quindi prima dell'uno è il matto lo zero quindi può essere una persona che ancora non ha bene chiaro in testa cosa vuole fare quindi questa persona potrebbe non aver chiaro in testa cosa vuole fare con voi se vuole fare il primo passo oppure no perché lui secondo me vorrebbe che foste voi a palesarvi a far qualcosa capisce che poiché voi siete la parte offesa teoricamente dovrebbe essere lui però non riesce grazie a questo suo carattere un po' particolare non riesce a fare questo passo e rimane lì confuso non sa cosa fare quindi questa persona come vi ho detto prima potrebbe avere una donna ufficiale oppure no però comunque non sa cosa fare per tornare da voi cioè vuole tornare però non sa bene come fare da una parte e dall'altra non vuole farlo oppure quest'uomo di cui stiamo parlando potrebbe anche essere un matto leggo anche l'altra interpretazione di questa carta perché questa carta ne ha tante il matto è un uomo un po' superficiale un po' un peter pan che non cresce mai che non si che non si prende le sue responsabilità quindi questa persona potrebbe essere anche un uomo di poco valore che non riesce a pensare la sua responsabilità un po' bambino mai cresciuto immaturo che magari non si rende neanche conto del male che fa che entra ed esce dalla vita di una donna potrebbe essere anche questa tipologia di persona voi ovviamente siete tanti essendo una variante unica leggetelo in base a chi siete voi e a che situazione avete quindi queste sono le due letture più importanti di questa carta quindi comunque sia questa persona al momento non non vuole farlo questo passo al momento è molto indecisa è molto indecisa vediamo adesso con un altro giro di carte se lo farà comunque questo primo passo cioè se dopo magari aver riflettuto lo farà quindi rivediamo un attimo magari prendo un altro mazzo e vediamo magari prendo questo che un po' che non lo uso bene vediamo con questo mazzo delle streghette se questa la prendiamo ovviamente è il mondo se questa persona farà questo primo passo oppure no quindi risponde solo a questa domanda se questa persona farà il primo passo oppure no diteci un po' se questa persona alla fine farà questo primo passo verso chi sta ascoltando oppure no farà questo primo passo oppure no ho già preso tre carte ne voglio prendere altre almeno altre due questa persona farà il primo passo oppure no questa persona farà il primo passo oppure no allora vediamo un attimino cosa viene fuori cosa è venuto fuori allora abbiamo il mondo l'imperatrice le leggo perché sono in inglese il mondo l'imperatrice il re di denari il cavaliere di coppe e il diavolo eh sì che lo farà eh sì quest'uomo è ancora molto preso da voi direi ossessionato da voi infatti prima era uscito anche l'otto di spade che indica proprio una persona che non dorme la notte ansiosa perché ossessionata da qualcuno quest'uomo nonostante la sua apparenza così da imperatore da uomo che non deve chiedere mai è ancora molto preso da voi e vi desidera fisicamente con questo diavolo è anche ossessionato da voi questo cavaliere di coppe mi fa pensare che le sue intenzioni sono oneste cioè vuole vi ama veramente e qua mi esce anche l'imperatrice quindi eh vi considera eh una donna molto materna una donna feconda una donna su cui si può contare si sente in colpa infatti per avervi feriti ferite o ferite e pensate voi le cose più belle anche fisicamente gli piacete molto e anche il modo in cui vi ponete con lui il vostro modo di fare il vostro carattere il vostro modo di essere donne gli piace molto eh e anche un po' bambine no perché c'è quel momento che noi donne siamo un po' bambine facciamo i capricci anche in questo gli piacete molto e questo mondo mi fa pensare che tutto può essere realizzato in questo momento per cui probabilmente questa situazione si risolverà e questa persona farà questo primo passo con voi qua mi è uscito anche questo re di denari che appunto è lui in questo caso mi esce come re di denari quindi vi posso dare anche le con questo mazzo di carte mi esce come re di denari quindi posso dare anche il segno gioia datale quest'uomo in questione potrebbe essere un segno di terra potrebbe essere un capricorno un toro oppure della vergine avere questi segni nel tema natale o avere l'ascendente in uno di questi segni e il re di denari è un uomo molto pratico che un po' si lega all'imperatore una persona molto logica molto razionale che pensa bene alle cose prima di farle per lavoro potrebbe avere a che fare col denaro e appunto una persona comunque molto pratica una persona molto pratica pane pane vino al vino una persona molto pratica che non fa giri di parole che quello che deve dire lo dice subito ed è quello potrebbe essere anche un uomo che sa investire bene il suo denaro che è bravo investire il suo denaro voglio darvi fisicamente come potrebbe essere come faccio sempre questa persona poi vi do le iniziali e un'ultima carta oracolare vediamo come potrebbe essere fisicamente questa persona diamone una vediamo potrebbe vestire in maniera molto curata che con il re di denari ci sta a pennello potrebbe vestire in maniera molto curata allora vi do le iniziali e poi una carta oracolare la M la U la O la E la D di Domodossola la G di Giovanni la N di Nicola la C di Carmelo la P di Paolo la A di Alex e basta queste qui queste sono le lettere vediamo gli oracoli cosa dicono su questa situazione vediamo se sono concordi con il fatto che questa persona farà questo primo passo verso tipo o da sola ok vuoi parlare parla le parche questa persona è una persona che non è facilmente come possiamo dire che non fa vedere quello che pensa cioè molto spesso non vi dimostra apertamente quello che pensa anche nelle parole un po' delle volte non tanto vi dice le cose gliele dovete tirar fuori voi le parole cioè nel senso che dovete fargli 4.000 domande e poi vi dice e vi risponde questa persona qui è un po' così una persona un po' che non si esprime molto che non racconta molto di sé questa persona è fatta così ma nonostante questo effettivamente si farà viva con voi voglio prendere un'ulteriore carta l'ultima oracolare sempre vediamo voilà un'ultimissima carta abbiamo la carta della separazione la carta della separazione ne voglio prendere un'altra perché voglio capire a che titolo esce questa carta la carta dei sentimenti romantici e la carta della maschera sì ho capito la chiave perché allora questa persona sta ci sta mettendo così tanto tempo a diciamo venire verso di voi perché è convinta che la cosa migliore per voi sia stare lontana da lui cioè pensa che fa il vostro bene standovi lontano perché ha molta stima di voi e quindi porta una maschera cioè non vi fa capire cosa veramente prova per voi che si collega con quest'altra carta cioè una persona che non fa vedere molto che tiene nascosti molto bene i suoi sentimenti che non li vuole esternare quindi questa persona pensa che per per questo motivo per farvi del bene che di stare lontana però è un suo pensiero una cosa che pensa lui però nonostante questo ritornerà nella vostra vita questi sono diciamo altri ostacoli a questa situazione però che ritornerà sì ritornerà da voi vediamo i pensieri qualche pensiero e poi veramente vi lascio qualche pensiero suo questa persona per voi nei vostri confronti però vedete non riesce a starvi lontano perché comunque lo pensa però poi continua ad amarvi i suoi sentimenti per voi sono romantici ecco guardate tornerò da te aspettami beh io credo che a questo punto sia tutto molto chiaro va bene e questa persona un po' tanto macchiavellica eh ragazzi o ragazze che state guardando un po' tanto macchiavellica è una persona furbetta molto furbetta ma voi lo sapete voi lo sapete perché la conoscete bene mi viene fuori una personcina così poi scrivetemi sotto nelle nelle osservazioni se è veramente così questa persona magari non per tutti voi però per una buona parte di voi questa persona è un bel po' furbetta va bene io vi lascio spero in qualche modo di aver rifatto compagnia e noi ci troviamo la prossima volta buona serata dalla vostra amica Perla ciao 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 ciao